eccolo questo cagnolino che vedete si chiama spino è un cagnolino molto timido lui si sta abituando alle persone però è timidissimo guardatelo un po lo sto riprendendo da fuori perché lui se mi avvicino con la telecamera pensa che io voglia fargli chissà che cosa allora guardatelo un po che carino lui è un nuovo arrivo del bau è un cucciolotto solamente che ha tanta paura degli esseri umani guardatelo patatone è bellissimo lui è una piccorella tutta bianca è un amore di cagnolino e una taglia medio grande guardate che musetto che ha guardate che carino e qui fuori non si rende conto che ho la telecamera e allora lui è tranquillo è dato sì bellissimo guardatele un po lui si trova qui a rifugio baudi alpignano appunto è arrivato non da molto e adesso lo stanno cercando appunto di insegnargli che fargli capire che le persone possono essere anche brave che non usano le mani solo per picchiare ma usano le mani per fare carezze e per fare tante coccole lui è molto dolce quando si abitua a una persona non si lascia ancora diciamo molto chiaramente manipolare perché ancora abbastanza paura però insomma sta già acquistando fiducia assolutamente non è un cane aggressivo a parte che è un cucciolotto ma assolutamente non è aggressivo lui è solo tanto 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 timoroso però insomma in questi giorni da quando è arrivato ha fatto passi da gigante quindi noi siamo sicuri che insomma in breve tempo le sue paure saranno superate e riuscirà ad andare in passeggiata con i visitatori e così potrà trovare anche lui un'adozione spino si trova qui a rifugio baudi alpignano venite a conoscerlo guardate che musetto che ha è stupendo lui vi aspetta grazie